Ciao ragazzi, oggi siamo qui con un video diverso, diciamo informativo, per farvi ragazzi vedere che in questa attività, lascerò il link in descrizione di questa cattura, potrete trovare e potrete fare questo glitch, questo bug, che senza uso di mod, senza uso di altro, ragazzi di un jetpack infinito praticamente, come se il personaggio avesse un jetpack infinito, perché potrete volare con questo bug, con questo glitch, in tutta la Santos senza mai cadere ragazzi, addirittura potrete non solo scendere di quota, ma addirittura salire di quota, è una cosa incredibile, e in questo gameplay vi farò vedere un po' come fare, allora praticamente ragazzi, come potete vedere, ho fatto vari tentativi, i primi tentativi non riuscivo a farlo, perché? Perché bisogna andare dritti nel questo mulino a vento, diciamo, e saltare proprio nel momento in cui c'è l'impatto con questo mulino a vento, quindi io sbagliavo inizialmente perché saltavo in maniera sbagliata o non saltavo a tempo, diciamo, la posizione era un po' sbagliata, invece è semplicissimo, basta che voi andate, come sto facendo vedere, andate dritti, ok? Perché il problema è che varie volte il personaggio salta male, oppure come vedete rimane sospeso in cielo camminando sul cielo, e poi cadete giù e magari non morite, perché non morite però è noioso aspettare quei 10-20 secondi che il personaggio cade giù, scusate, e si suicida. Come dovete fare? Dovete premere a tempo, salire su questa cosa di immondizia, premere a tempo proprio il quadrato quando sta arrivando il mulino a vento, e vedrete che il personaggio subito si mette in posizione di volo, ovviamente dovete prendere il paracadute, e si troverà così, diciamo, in aria volando, e vedrete che il personaggio rimane così fermo, è una cosa incredibile ragazzi, vi faccio vedere ora, anche poi, mentre anche parlerò in inglese, in portoghese, come il personaggio, come vado per le strade di Los Santos così, volando tra le auto e tra i semafori, è una cosa stupenda ragazzi, spero che ci riusciate e che vi divertiate con i vostri amici, e sicuramente ragazzi ci vediamo in un prossimo video, lasciate un like se vi è piaciuto e se vi divertirete, ci vediamo, al prossimo video parlo in inglese ragazzi, se volete ascoltare un po' d'inglese magari non fa mai male, c'è chi trova il po' se ho idaccia ragazzi, ok ragazzi, come avete già visto il video, vi mostrerò come, ok ragazzi, come avete già visto questo glitch, questo bug, è fantastico, è incredibile, e questo nuovo futuro, su questo jetpack infinito sul tuo carattere, è molto divertente di usare ragazzi, e come avete visto, io l'ho fatto nel primo attento, quindi ragazzi, devi provare, provare 1, 2, 3, 4, 5 volte e potete farlo facilmente, credo a me, e basicamente devi andare direttamente nel vento, e quando il vento ti ha avuto, devi andare con il tuo carattere, con il quadro ovviamente sul tuo controllo, e questa è un'attività che puoi trovare, che puoi spiegare solo su PS4, e io lascio l'attività nella descrizione, è una captura, e se avete piaciuto questo glitch con i miei amici, piacere un like, e share questo video con i miei amici, spero che vi piacere, e vi vedete nel prossimo video, ragazzi, voglio parlare in portoglielo, e se siete interessati, sono dei miei amici, ragazzi, io stavo giocando, vedete in un'altra parte Galera, è un glitch, è un glitch molto molto, ingrassato, praticamente, voi dovete andare verso il vento, e, basicamente, dovete saltare, dovete pulare, nel momento che un Il primo è per toccare, per colpire, per, non so come si dice, per impactare il personaggio, il suo personaggio. E, basicamente, voi potete volare in tutto Los Santos. Allora, è molto divertente come glitch, e spero che voi abbia piaciuto questo video. No caso, por favor, deixe un like, perché può aiutare molto qui. E, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Falou!